La centralità del gioco di squadra è un concetto che ha ormai travalicato i confini della terminologia sportiva per essere adottato anche nel mondo del lavoro. Una connessione tra campo e ufficio che è stata approfondita nel corso di un evento organizzato ad hoc dal Cesena FC in collaborazione con G-Group. Questi confronti fanno emergere dei punti sui quali può riflettere sia il mondo dello sport sia il mondo del business. Oggi sono emersi dei punti importanti che mi porto a casa, sono convinto che tutti coloro che hanno partecipato hanno ascoltato qualcosa di non così banale. Il gioco di squadra va continuamente seguito, innovato e credo che ci siano molti legami tra la filosofia che c'è nel mondo dello sport con quello dell'impresa, dove l'impegno, costanza e la dedizione siano poi alla base di ogni successo. L'esperienza del Cesena insegna. L'importanza del gruppo è sempre stata esaltata dai protagonisti di una stagione che ha segnato il primo passo della rinascita del Cavalluccio. Sì, sicuramente le società di calcio stanno diventando delle piccole e grandi aziende. Noi quest'anno siamo ripartiti e abbiamo cercato di creare un gruppo forte. Penso che la nostra vera forza sia stato questo senso di appartenenza che è presente in tutte le persone coinvolte in questo progetto del Cesena.